Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Le riprese della serie Disney Plus di Kanyaman e il Turco sono iniziate a settembre. Kerem Deren ha scritto la serie, girata in inglese da IAPM, ed è diretta da Uluk Bayraktar. La maggior parte della troupe, compreso il direttore della fotografia, è composta da nomi stranieri della serie girata in Ungheria. Kanyaman dà vita al giannizero Hasan Balaban, soprannominato il Turco. Sul romanzo di narrativa storica di Orany Enyaras e il Turco, 2, l'ufficiale dell'intelligence ottomana Balabana ha, trovato ferito dal popolo di Moena durante l'assedio di Vienna, si stabilì in questo villaggio e organizzò una vittoriosa rivolta a contadina contro i fiudatari, che legarono il popolo al tributo. Ecco i giocatori di El Turco e tutto quello che c'è da sapere su di loro. Nato a Vasto il 19 settembre 1995, da una famiglia di origini abruzzesi, campane e molisane, cresce a Campobasso. Padre Giuseppe Ferro è un imprenditore nel settore alimentare e contitolare con i fratelli del pastificio La Molisana di Campobasso, di cui è amministratore delegato dal 2011. Sua madre, Gilda Antonelli, è professore ordinario di organizzazione aziendale all'Università del Sannio di Benevento. Ha una sorella di nome Ginevra. Dopo un anno di collaborazione con Interculture in Cina e il diploma di maturità classica al liceo Mario Pagano di Campobasso, nel 2013 Greta Ferro si trasferisce a Milano dove studia economia all'Università Bocconi. Ha iniziato a fare proposte ad alcune agenzie di modelle durante il suo secondo anno di college, ma la loro proposta non l'ha convinta. Alla fine, due talent scout l'hanno notata e ha iniziato a lavorare come modella per Why Not Model Agency di Milano. Nel frattempo Paolo Grassi segue i corsi serali della civica scuola di teatro e scopre la sua passione per la recitazione. La sua svolta professionale è arrivata all'inizio del 2018, quando è stata coprotagonista del cortometraggio di Armania Jacket, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido, come lei stessa ha raccontato. Il signor Armani Minota, mi sceglie per la campagna di Emporio e successivamente come testimonial della sua linea di bellezza. Lo stesso corto viene finalmente visto dai registi di Made in Italy e Ago Panini e Luca Luccini, NDR, che mi cercano. In questa serie di tendenza, prodotta da Mediasetetau2, interpreta la protagonista Irene, una giornalista determinata a farsi strada nel settore. L'afferro ha avuto anche un piccolo ruolo in Chiara Lubitsch L'amore vince su tutto. All'età di 18 anni, Sobin si è trasferita a Los Angeles per studiare recitazione all'American Academy of Dramatic Arts, dove si è laureata nel 2007. Dopo essere tornato in Croazia, si è trasferito a Zagabria e lavora come artista freelance in vari teatri, Merlin Theatre, Open University of Velica Gorica e DK Dubrava. Il suo primo ritorno a Spalato nel 2009 è con la commedia qui scrive sul nome del dramma Anti, ma ora è il suo primo ritorno a Spalato con Fisherman Fights al Teatro GKM e al Teatro Nazionale di Spalato. Ha interpretato il combattente merenese nel 2015. Nel 2015, Sons of the Arpy di Game of Thrones. Sobin ha ospitato i premi teatrali croati 2019 con Bojana Gregoric. Ha doppiato Gideon Grey nel doppiaggio croato di Zootropolis e 2016. Kemp è nato nell'Earthfordshire, in Inghilterra. Educata alla Royal Ballet School, è stata accettata nella compagnia di danza Adventures in Motion Pictures Amp all'età di 17 anni. Ha vinto il ruolo principale di The Swan in Swan Lake di Matthew Bourne, sia a Londra che a Broadway dal 1997 al 2000. Nel 2002, è stata vista ballare la canzone Stuff Like That in uno spot pubblicitario diretto da Peter Lindbergh per la campagna Forever Regeneration di Gap, e nel 2004 è apparsa in due film di Frances Lawrence con Sarah Jessica Parker. E scene per la campagna Do You Share It. Ha notoriamente rifiutato un lucroso contratto di modella con Giorgio Armani, aducendo che non voleva essere confusa come modella piuttosto che come attore e come motivo della sua decisione. Kemp ha debuttato come attore e come Lupo Mannaro nel film d'azione horror del 2004 Van Helsing, con Hugh Jackman e Kate Beckinsale. Ha interpretato il cavallo Nugget e The Young Horseman nella rievocazione storica di Equus nel West End del 2007, con Daniel Radcliffe. Il ruolo di Nugget gli richiedeva di indossare una maschera da cavallo di filo metallico e zoccoli bar a ferri di cavallo di metallo e portare Radcliffe sulla schiena mentre garoppava. Step Up 2, The Streets nei panni di Blake Collins, direttore della Maryland School of the Arts MSA e fratello di Chase Collins.